Simone, ma secondo te, se uno in passato ha fatto delle cose brutte, non è meglio dirselo? Sì, è tanto tempo che ci penso. Alla mia ex moglie, la dentista, ho fatto una cosa orrenda. La tradivi? Peggio. La maltrattavi? Peggio. La picchiavi? Accertamento fiscale, 84 mila euro di sanzione. È per colpa sua però, pura Macari è nero. Io volevo chiudere un occhio, ma non ce l'ho fatta. Ma sai, quando hai troppo il senso del dovere, non ci riesco. Perciò ti prego, non farmi mai scegliere tra te la legge. E tu hai qualche cadavere nascosto? Io? Ma no, figurati. Cadaveri. Non so mai dove metterli. Credo che ci sia una cura, sai, per la nostra ferita intendo. Fare un bambino. E cercare di essere dei genitori migliori dei nostri. Un bambino? Sì. Hai presunto un bambino? Un bambino, è come un adulto proprio piccolo. E funziona, secondo te? Che ne so. L'ho detto il tostapane. Oh, buono. Noi. Grazie.